I valori in festa, dal 19 al 24 settembre a Roma in piazza Risorgimento, festa regionale del Lazio dell'Italia dei Valori. Dal 19 al 24 settembre a piazza Risorgimento a Roma per la prima festa dei Valori del Lazio. Non solo dibattiti alla prima festa regionale dell'Italia dei Valori del Lazio, ma anche tanti artisti. Un consiglio, venite con i mezzi pubblici perché potreste vincere una Smart acquistando i nostri biglietti della lotteria. Stand, dibattiti, incontri, musica e intrattenimento dal pomeriggio alla sera.